Moreno Longo 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 di regalare una gioia ai nostri tifosi, anche perché con quella vittoria ci regaleremo anche noi altri tre punti che servono per la nostra classifica e per il nostro obiettivo, quindi sappiamo cosa vuol dire il derby e sono sicuro che i ragazzi già da domani inizieranno piano piano a pensare a questa partita per cercare di dare il 110% domenica, perché vincere un derby in casa con i propri tifosi sarebbe davvero una grande gioia. Intanto per cominciare ha cambiato modulo, oggi così è mischiato le carte, nessuno sa cosa farà e non lo diremo chiaramente. Certo, così apriamo le porte così tutti quanti vedono cosa facciamo, al di là di quello questa settimana si è deciso di tenere le porte chiuse perché si provava comunque qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, c'era bisogno anche un po' più di concentrazione e di attenzione e soprattutto di non dare spazio a chiacchierici vari su meglio questo, meglio quest'altro perché anche oggi quello che ha fatto la differenza non è stato il modulo perché poi alla fine col 4-3 a volte si è patito anche meno, se guardiamo la partita con il Cesena il 4-3 è stato sicuramente più bello del 5-3-2, però quello che ripeto, quello che conta è sempre l'atteggiamento. Quando noi capiamo che ogni partita è anche una battaglia, perché si parla di battaglia sportiva e che si interpreta con quella fame, con quella cattiveria agonistica per cercare di portare a casa anche i duelli singoli, allora a quel punto io credo che questa Pro Vercelli potrà crescere.